Carissimi, è per me un vero piacere rivolgermi a voi ed entrare nelle vostre case e vorrei entrare con i social, i nuovi sistemi che ci permettono di cambiare le idee, di parlarci in tempo reale, quindi entrerò nelle vostre case portando gli auguri di tutta l'associazione. Vi devo soltanto dire e voglio dirvelo, grazie perché mi avete veramente soddisfatto, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, questo grazie alla vostra operatività, quindi grazie con tutto il cuore. Quello che vi chiedo è una cosa sola, abbiamo dei giorni di festa che ci aspettano, dimentichiamo i pensieri, dimentichiamo il coronavirus, pensate soltanto che possiamo stare vicino alle famiglie, vivere le loro famiglie e viverelo serenamente. Come vedete alle mie spalle c'è il calendario del 2022, è un calendario dedicato tutto all'F35, quindi io vi posso dire che sia un Natale santo con le vostre famiglie e sia un anno veramente super sodico. Carissimi, un forte abbraccio a tutti, buon Natale e buone feste.